Una delle cose più importanti quando ti vuoi migliorare, vuoi ottenere qualcosa, vuoi conquistare qualcuno è avere dentro di sé una perfetta proiezione, un perfetto focus che si lega all'entusiasmo. Questa parola è una parola magica, l'entusiasmo. Cos'è l'entusiasmo? L'entusiasmo è quella brama, quella voglia, quel desiderio di ottenere qualcosa, di effettuare un processo, delle azioni, anche di impegnarsi, di dedicarsi a un qualcosa che tu ami veramente o perché lo ami in modo intrinseco, cioè ami proprio fare quelle cose anche prima di ottenere un risultato oppure avere entusiasmo per eseguire, dedicarsi, eseguire, fare quel processo non perché ami il processo, anzi magari ti rompe un po' le scatole, ma perché ami quello che potresti ottenere. Quindi questa brama, tra virgolette, di successo, di conquista, di ottenere un qualcosa, questo obiettivo che tu hai deve sviluppare questo entusiasmo perché l'entusiasmo ti permette di sentire meno la fatica, di stressarti di meno, ti permette di essere automaticamente una persona motivata, ti permette di poter lavorare di più, di sentire meno dolore, di sentire meno attrito, di sentire anche meno stanchezza e di fare le cose sia perché, ripeto, ami il processo, sia perché il processo non lo ami ma ami il risultato che sai che otterrai molto probabilmente dedicandoti con entusiasmo a questo processo per ottenere l'obiettivo e quindi se un qualcosa non sviluppa entusiasmo significa o che hai una mentalità, diciamo così, tendente tra virgolette al depresso, all'abbattimento, quindi una mentalità non strong perché tu ti stai dedicando a una cosa che ami o a una cosa che ti permette di raggiungere ciò che ami quindi questo deve far sviluppare entusiasmo altrimenti hai un problema di visione generale e devi lavorarci o con i miei video o con una consulenza, con dei corsi chiedendo a qualcuno, a chi ti pare, però devi lavorarci altro elemento è che se tu non hai entusiasmo per una certa cosa che vuoi ottenere devi guardarti un pochino dentro o guardarti allo specchio, vedi come preferisci e devi chiederti questa cosa io la voglio veramente questa cosa la amo veramente, è un mio obiettivo profondo è una cosa che io sogno e desidero profondamente oppure ci sono dei motivi esterni voglio impressionare qualcuno, mi sento da meno erroneamente perché gli altri mi giudicano eccetera eccetera cioè se tu non sei ego focalizzato, cioè focalizzato su ciò che vuoi tu sarai automaticamente focalizzato su ciò che vuole un mondo esterno, gli altri o anche delle tue paturnie, delle tue convinzioni, credenze o paura dei giudizi degli altri quindi se tu vuoi veramente diventare potente nell'ottenere qualcosa da te, dalla vita, dagli altri conquistare, ottenere, risolvere, anche guadagnare, migliorarti quello che vuoi devi necessariamente come utilità e come test provare entusiasmo se non provi entusiasmo devi guardarti dentro, capire se vuoi veramente quella cosa oppure devi valutare perché la fai o in alternativa se non provi entusiasmo è perché non hai ben chiara una visione a livello di mentalità per cui tu fai quel qualcosa o per risolvere un problema o per conquistare un qualcosa che desideri che non è legato a problemi quindi che tu faccia una cosa che non ti piace per risolvere o prevenire o curare un problema e quindi devi provare entusiasmo perché è sempre un vantaggio, un sogno, un desiderio che ottieni o devi provare entusiasmo perché vuoi quella cosa anche se non ti crea problemi non è obbligatoria, non la devi risolvere o correggere però avrai un vantaggio emotivo, pratico nella tua vita eccetera quindi ricordati di provare sempre entusiasmo perché ti dà infiniti vantaggi come ti ho appena detto, ti ho detto poco fa oppure cerca di capire come mai non provi entusiasmo magari è una cosa che non fai con la visione giusta o semplicemente qualcosa che non vuoi veramente fare se ti è piaciuto questo video mettimi un like a me serve molto, a te non costa niente iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video ciao da Alex Sonofri, sei sempre strong